Ciao formatore, oggi dopo tanti di voi che mi chiedono che mi vedono su Facebook che cosa sono i funnel oggi facciamo un esempio pratico di come può essere utile i funnel per voi formatori allora prendiamo l'esempio che tutti voi potete conoscere andiamo a vedere un'azienda che è una delle più conosciute come vettore che è Ryanair Ryanair è una grossa azienda come tante altre che applica da tempo il concetto di funnel facciamo un esempio, se voi cercate un volo e andate su un vario portale, pensate a Skyscanner che è un portale per cercare i voli, cosa fate? Voi cercate Milano-Madrid trovate una serie di vettori, vedete che c'è anche Ryanair clicchiamo sull'offerta che mi offre quel portale e mi porterà a vedere che per esempio il volo di Milano a Madrid costa 150 euro in quel momento io cosa faccio? Clicco su quelli 50, sull'offerta che mi viene offerto e mi darà gli orari di partenza nel momento in cui clicco e decido il prezzo per l'andata e il ritorno cosa fa subito in maniera automatica? il sistema mi dice guarda Matteo, che tu hai, si costa 30 euro l'andata però se compri il prodotto B ti permette anche il salta coda io lo chiamo Speedy Pizza sostanzialmente saldi la coda, costa 60 euro se vuoi anche garantirti il cambio del biglietto costa 150 euro cioè mi ha fatto subito un'azione termine tecnico sentirete parlare di auto, one time offer già capisce in quale momento tu sei perché stai già acquistando e comincia a proporti altri servizi qua succede che nel momento in cui io faccio continua perché lo voglio andare a concludere l'acquisto a metà strada arriva un'altra offerta ti offri servizi e accessori e voi vedrete che cosa? l'assicurazione vedrete il noleggio auto vedrete l'albergo prima di concludere l'operazione perché sta seguendo il tuo momento di acquisto quando voi farete ok e pagherete avrete una pagina metterete la vostra carta di credito e anche in quel momento Ryanair e il sistema cercherà di farvi un altro momento d'acquisto voi troverete che per esempio oggi Ryanair ti dice se vuoi ricevere la carta d'imbarco via sms paga 2,59 euro ok? quello viene chiamato in termine tecnico bump cioè tentativo di fare economia già quando il cliente è già in fase di conclusione dell'offerta poi abbiamo un bump di altri 2,59 euro quando lascerò la carta di credito una thank you page mi dirà grazie Matteo e lì farà un'altra tentata vendita di un altro prodotto e servizio qual è il concetto? vuol dire che il nostro contatto viene seguito nel tempo e vengono proposte pagine e offerte nel momento giusto di quando l'utente vuole e sta facendo un'azione ed è la differenza sostanziale col sito il sito cosa succede? vado su www.blablabla.com e mi dice tutto contatti, soluzioni, preventivi e lasciamo l'utente navigare in un oceano e non capisce cosa può fare è tutto statico non vengono presentate delle situazioni dei contenuti ad hoc nel momento in cui io mi trovo in quel momento allora se i grandi big come Ryanair e tutti i vettori oggi applicano il concetto di processo e ti comunicano qualcosa nel momento in cui io mi trovo noi dobbiamo imparare come formatori e quando proponiamo un corso e in base ai contenuti che noi veicoliamo dare delle offerte piuttosto che dei contenuti differenti in base allo stato del mio contatto se il contatto è freddo se è tiepido o caldo mentre il mondo del marketing vi ha sempre l'insieme di fare un tutto uguale basta il sito punto, finita no in realtà io comunico differentemente in base al tipo di temperatura del contatto questo è quello che volevo diciamo dirvi oggi a breve avremo una serie di eventi iniziative qui sotto trovate un link dove potete cominciare a capire inizialmente che cosa sono i funnel richiedendo la vostra copia gratuita del libro funnel marketing formula di Michele Tampieri andate su questo link e cominciate ad avere gratis un libro che è un piccolo tesoretto per capire come si sono fanno i funnel a presto e alla prossimo video